Terra Amara, spoiler turchi, Demir Adnan con il nome Yilmaz. Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su canale 5, Demir farà un gesto molto speciale nei confronti di Adnan. Per onorare la memoria del padre biologico, Demir ribattezzerà il bambino con il nome Yilmaz. Un gesto che commuoverà parecchio Zuleya, non si sarebbe mai aspettata che il marito potesse rendersi protagonista di un atto d'amore così grande. Tutta Cucurova si riunirà per festeggiare il compleanno del piccolo Adnan. Dopo tanti problemi a casa Yaman si vivrà in un clima di felicità e allegria. Il bambino sarà molto felice per la festa che gli verrà organizzata, anche perché da ogni invitato riceverà un bel regalo. Tutti attenderanno anche il regalo dei genitori e Demir aveva preannunciato che per il piccolo inserbo una sorpresa molto speciale. Davanti a tutti Demir dichiarerà che da quel momento in poi il bambino non si chiamerà più Adnan. Bensì Yilmaz, come il suo defunto padre. Demir ama il bambino come se fosse suo figlio e in primo periodo non ha mai accettato che il padre biologico fosse Yilmaz, ma ora le cose sono cambiate. Ha deciso di cambiargli il nome proprio per onorare la memoria di Yilmaz, scomparso a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale. Tutti saranno molto felici per il gesto di Demir, soprattutto Zuleya, che non si sarebbe mai aspettata che il marito potesse compiere un atto d'amore così grande. La commozione prenderà il sopravvento e la ragazza non riuscirà a trattenere le lacrime. I presenti applaudiranno Demir e tra i tanti ci sarà anche Fekeli, che sarà molto felice di come il giovane Yaman abbia deciso di onorare il figlio scomparso. Sarà un regalo veramente emozionante, che sorprenderà veramente tutti. Anche Umit verrà invitata alla festa da Zuleya, ma Demir la inviterà a stare lontano dalla sua famiglia. La ragazza, però, non darà retta all'avvertimento e si presenterà al ricevimento. Demir rimarrà pietrificato, per lui Umit è un pericolo e avrà paura che possa dire a Zuleya ciò che è successo tra loro. Demir impallidirà all'istante, ma Umit farà finta di niente, porterà il suo regalo ad Adnan. Mostrando il suo sorriso migliore. Demir sarà molto arrabbiato e qua l'atteggiamento di non curanza lo farà innervosire ancora di più. Zuleya sarà ignara di tutto quello che sta accadendo tra il marito e Umit, quindi saluterà quest'ultima come se tutto stesse andando nel migliore dei modi. Demir non sarà per niente compiaciuto dalla presenza della sua ex amante e chissà se Umit sfrutterà l'occasione per rivelare a Zuleya la natura del rapporto con suo marito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.